Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, io sono Rickman e oggi come vi avevo promesso vi farò vedere come rinominare qualsiasi canzone che avete scaricato direttamente dal vostro smartphone Android per vedere il video su come scaricare appunto qualsiasi canzone dal vostro telefono Android troverete il link in descrizione come chiaramente lo premerete e andrete a vedere appunto il video ora per rinominarla dovete andare su File Manager che è questa applicazione qui che molti di voi avranno già preinstallata nel caso non sia preinstallata la potete scaricare anche dal Play Store e la procedura è sempre quella andate su File Manager, dopodiché su Schede SD e dopodiché su Download qui troverete la vostra canzone, in questo caso la mia è questa, la tenete premuta in questo modo dopodiché andate su questi tre puntini e premette su Rinomina vi si aprirà questa piccola finestrella, ora qui potete scrivere quello che volete io cancello contesto e qui metto un trattino ecco, non togliete mai la scritta .mp3 non toccatela neanche perché il formato sennò chiaramente non ve lo legge più dopodiché fate fine e si sarà salvato ora appunto se andate in Musica andate a cercare come vedete ecco scusatemi come vedete il nome è stato cambiato nel caso voi dobbiate invece scaricare il gestore file perché non ce l'avete già preinstallato vi consiglio scaricare as gestore file perché secondo me è un gestore file molto buono che se avete root vi permette anche di modificare i file di sistema io chiaramente non ci farò un video a parte perché come sapete toccare i file di sistema c'è sempre il rischio di brick ovvero il blocco definitivo del vostro smartphone android e io non voglio immischiarmi in quelle cose lì comunque se volete rinominare un file una musica che avete installato che avete appena scaricato dovete aprire as file explorer premere memoria interna a quanto si possa pensare che è strano dovete premere memoria interna e dopodiché andare su download una volta andati su download tenete premuta il file che volete rinominare la canzone e anche qui premete su rinomina qui vi uscirà come prima la casellina dove voi qui potete mettere il nome che volete chiaramente sempre senza toccando .mp3 perché il formato che se sapete che lo toccate non ve lo legge più infatti vedete che sottolinea tutto tranne .mp3 perché quello non va toccato qui poi adesso potete metterci il nome che volete della canzone quando avete finito fate ok ora io non posso perché non l'ho modificata però quando voi avete fatto premete su ok comunque per questo video è tutto spero che vi sia piaciuto tutti i link in descrizione e quindi anche il video su come scaricare musica direttamente al vostro smartphone android noi ci ritroviamo in un prossimo video e ciao